parliamo di profumi ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Cristina e oggi parliamo di profumi davvero particolari parliamo di profumi che hanno una certa fascia di prezzo parliamo dell'extra lusso in questo caso so che molte di voi, molti di voi, questi video li saltano a prescindere perché comunque magari sono tipologie di oggetti e comunque in questo caso profumi che magari non potendosi permettere preferiscono nemmeno ascoltare non è una filosofia che io sposo molto perché secondo me se si è appassionati bisogna avere un minimo di interesse che spazia dal super low cost ad arrivare fino all'high cost almeno per quanto riguarda una conoscenza sto parlando però vi chiedo di restare perché comunque non è che questo video deve andare per forza come credete voi ecco perché comunque potreste rimanere stupiti e comunque potreste avere insomma delle sorprese parliamo di un brand francese che si chiama Fragrance Du Bois un brand che soprattutto tra le sue referenze ha moltissimi profumi dedicati alla resina dell'houd quindi profumi che hanno questa resina molto preziosa molto usata in profumeria tanto amata quanto odiata ma è comunque una delle note una delle materie prime che si trasforma in note più famose per quanto riguarda i profumi per quanto riguarda la profumeria artistica ma tantissimo anche per quanto riguarda la profumeria commerciale allora questa è una collaborazione quindi io ho collaborato con Fragrance Du Bois che mi ha inviato due fragranze vi volevo fare vedere i pack perché meritano veramente ecco qua allora questo è il pack del profumo si apre in questo modo si apre poi così dove c'è appunto una scatola di velluto molto 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 raffinata come vedete e qui c'è il profumo in sé spero che non sia il contrario aprendosi si solleva leggermente la scatola e come vedete qui c'è il profumo queste sono le scatole veramente molto belle tutte fatte comunque internamente e esternamente di velluto e all'interno sono invece comunque con del raso rosso quindi insomma veramente molto molto elegante allora questo primo profumo di cui vi parlo ecco vi faccio vedere anche i pack eccoli qui veramente pesanti e veramente insomma diciamo che denotano insomma una certa tipologia di profumi come vedete hanno la parte davanti in nero e comunque sono fatti così allora questo si chiama New York Fifth Avenue appunto questo è un profumo interamente dedicato alla quinta strada alla famosissima quinta strada di New York ecco ci sono note di rosa, bergamotto, caramello, violetta olio di cipriol, legno di cashmere, muschio vaniglia e legno di guaiaco allora io me lo spruzzo così insomma ne parliamo un attimo insieme allora io vabbè hanno una nebulizzazione questi profumi potrà sembrare una cosa scontata ma veramente abbastanza sconvolginta nel senso che è perfetta la nebulizzazione ne abbiamo già parlato una volta di come insomma nebulizzano i profumi la tipologia di nebulizzazioni ecco questa è perfetta proprio allora devo dire che purtroppo questo profumo era un profumo dal quale mi aspettavo qualcosa di diverso nel senso che io avevo letto la descrizione comunque sul sito che si ispira comunque a una delle città più famose del mondo una delle città più conosciute più amate nel mondo ma è una delle strade più famose di New York dove comunque si mescolano una serie di odori fra cui anche mangerecci fra virgolette che provengono appunto dai negozi i ristoranti i baracchini come li chiamo io i chioschi che sono appunto lungo questa Fifth Avenue purtroppo io riesco a sentire quasi soltanto un sentore di rosa questa rosa prevale veramente troppo secondo me sul resto perché purtroppo la sento soprattutto anche se dopo arriva un sentore molto particolare abbastanza bello che mi piace perché questa rosa diventa dolce però non riesco a sentire questo vero intervento del caramello che gli dà quella bella mazzata finale per darmi non so l'odore che potrebbe venire dico una cavolata a caso non sono mai stata sulla Fifth Avenue ma manco sono stata sulla Fifth Avenue e tantomeno a New York purtroppo però presumo nella mia testa che questo odore di caramello potesse venire anche da un negozio famosissimo come Starbucks da una caffetteria dove si sente l'odore di questi caffè dove di caffè non c'è niente perché c'è ci sono cose dentro panne topping cose cose più caffè per cui vabbè per un italiano è un po' così ma sono cose molto golose questi dolci ecco purtroppo è un profumo in cui si sente molto l'uso della materia prima veramente veramente interessante ma purtroppo secondo me almeno al mio naso si è persa quell'occasione per poter dare una connotazione un po' più da Fifth Avenue o da Quinta Strada nonostante non ci sia mai stata perché non penso che la Quinta Strada profumi di rose e basta ecco è una rosa anche abbastanza non direi sanguigna quindi non è una rosa di quelle metalliche ma è una rosa comunque delicata come sentore però è una rosa che si fa sentire cioè è una bella rosa rossa ecco anche se sì questo intervento arriva però l'evoluzione non mi convince non mi convince perché è un'evoluzione è anche un pochino poco profonda nel senso che è un pochino troppo poco elaborata per quello che io penso per quello che mi aspettavo io vi chiedo di seguirmi fino alla fine perché alla fine ho intenzione di fare un discorso che va un po' al di là della descrizione di questi profumi perché ci tengo veramente molto però sì trovo un'evoluzione un po' piatta per un profumo che secondo me poteva meritare di avere ecco questa così questa sorpresa il secondo profumo di cui vi parlo stesso identico pack super lusso molto 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 bello eccolo qui abbiamo la stessa cosa comunque di prima ecco qua stesso identico pack ma ovviamente alto tipo di profumo ed è santal complet penso che si dica complet o complete non penso perché non è scritto così comunque eccolo qui anche questo stesso comunque tappo gioiello veramente veramente splendido con queste pietre nere incastonate sono dei veri dei veri e propri gioielli devo dire la verità anche questa nebulizzazione perfetta che insomma per un amante come me dei profumi è un come si dice una quel qui d'in più no perché comunque l'esperienza olfattiva è vissuta veramente a pieno è come un un amante dei liquori un amante dei whisky quando gli viene servito un whisky nel bicchiere adatto un bicchiere perfetto per essere degustato è che è un po' la stessa cosa non vorrei sembrarvi pazza appunto con questa cosa qui allora qui ci sono note di limone note di cocco viola pepe nero muschi sandalo ambre e vaniglia allora questo è diverso da diciamo il il precedente perché questo ha un un'apertura che sa leggermente di cocco in modo leggero e poi comunque secondo me è un profumo dedicato interamente al legno del sandalo profumo che proprio gira intorno secondo me a questa nota quindi sono dei legni che si rincorrono l'uno dietro l'altro quindi il sentore è molto legnoso ma è un legnoso molto cremoso molto io ve l'ho detto 50 milioni di volte se mi seguite lo sapete che comunque il legno di sandalo è un legno che non dà estrema durezza ai profumi anche se comunque spesso è nella base quindi insomma nel fondo per dare una sorta di profondità però è un legno sempre molto cremoso molto vellutato ecco questo è un profumo legnoso molto vellutato anche qui però dopo questa iniziale apertura di cocco io non riesco a sentire comunque arrivata questo sentore legnoso bello di legno di sandalo che io amo molto non riesco a sentire l'evoluzione per me l'evoluzione si ferma lì non andiamo molto cioè io continuo ad annusarmi il polso cioè il polso il dorso della mano e il profumo è rimasto uguale dopo l'apertura ho fatto quel piccolo cambiamento così come è successo con Fifth Avenue e poi è rimasto lì non ha avuto nessun altro tipo di evoluzione e insomma io l'ho già provato un'altra volta e quindi vi posso confermare questa cosa entrambi hanno comunque ottime ottime prestazioni per quanto riguarda potenza sillage e durata perché sono entrambi dei profumi abbastanza tatuaggio cioè quindi da questo punto di vista non c'è nulla di cui lamentarmi però purtroppo diciamo che secondo me anche in questo caso abbiamo avuto un'occasione persa mi avevano inviato comunque anche dei campioni da testare le varie comunque declinazioni dell'Houd secondo Fragrance Dubois che io comunque ho sentito in alcuni casi però ancora devo studiarmi bene dunque io vi ho chiesto di arrivare alla fine di questo video perché forse è la prima volta in tanti anni che io decido comunque di recensire dei profumi che non mi hanno convinta solitamente parlo con l'azienda e comunque dico un accordo decido magari di non parlarne perché comunque c'è un in questo caso questi profumi mi hanno molto delusa e non è la prima volta che mi succede attenzione qui però andiamo a diciamo colpire una determinata fascia di prezzo veramente molto alta io penso che questi profumi costino 270 euro 200 sì io li ho visti a 270 euro in una profumeria quindi le profumerie ufficiali che hanno anche comunque degli e-commerce solitamente non si inventano i prezzi per cui sono prezzi ufficiali quindi diciamo che sapete cosa io penso io mi arrabbio sempre quando si parla di prezzi perché io penso che per una passione non esista un prezzo il prezzo lo fa diciamo il tuo portafoglio quello che tu puoi permetterti in quel momento ovviamente così come tu come io perché tutti abbiamo comunque dei limiti non essendo nati comunque figli di super miliardari nella maggioranza dei casi io ho pochissimi profumi di questa fascia di prezzo nel mio comunque della mia collezione ci sono dei profumi che costano anche molto di più ci sono delle materie prime che costano veramente tantissimo quindi questi prezzi spesso sono comunque giustificati diciamo che ci sono volte in cui magari non si capisce bene da dove derivi un prezzo così alto non so cosa Fragas Dubois in particolare metta nei suoi profumi ma adesso almeno un discorso generale spesso e volentieri parlando di profumi e iniziando a collaborare con le aziende mi sono chiesta chi sono? sembra l'allieno ve lo ricordate? com'è che era così? dove siete? dove andate? ma quando si mangia? quando si mangia? ecco più o meno me lo sono chiesta un sacco di volte soprattutto quando si mangia perché ovviamente a volte vieni messo davanti a delle situazioni che sono non dico imbarazzanti però voglio dire ti vengono inviati dei profumi che sono così costosi è vero che io non percepisco un pagamento non firmo contratti nessuno mi chiede di parlarne bene o parlarne male mai però insomma c'è una sorta di dispiacere personale perché insomma mi sono state inviate più di 500 euro di merce e io sostanzialmente da un certo punto di vista boccio questi profumi però insomma purtroppo la mia risposta è sempre quella è quella che mi ha portato comunque ad avere il mio discreto numero di persone che mi seguono ma non aver mai fatto quel famoso salto no? che forse non avrei fatto comunque ci mancherebbe ma forse sì se avessi avuto un altro tipo di carattere il problema è che io provo una devozione infinita nei vostri confronti ma veramente infinita so che molte di voi lo sanno so che molte di voi non hanno bisogno di questo mio discorso finale a questo video ma io mi sentivo di comunque comunicarvi che su questo canale non troverete recensioni false finte perché mi sono stati inviati dei prodotti ecco purtroppo questa è una cosa una sorta di leggenda metropolitana che circola intorno alla figura dell'influencer io me ne levo ovviamente però bene o male devo anche starci un attimino a questa definizione perché è quello che faccio sostanzialmente ma è comunque una specie di dicceria che ho sentito scrivere e leggere che ho letto e ho visto scrivere a molte persone anche sui gruppi di appassionati di profumi quanto siano poco affidabili le youtuber che ricevono i profumi gratis secondo loro gratis ma non è così quindi insomma volevo ribadire per l'ennesima volta che secondo il mio punto di vista il problema e il tempo da perdere secondo me sta solo nel cercare la persona giusta che vi faccia le recensioni dei profumi non dico di essere io però ecco l'onestà intellettuale per me deve essere sempre 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 al numero uno io vi invito comunque a levarvi lo sfizio di annusare questo brand comunque se lo trovate in qualche profumeria nella vostra zona perché comunque ha delle referenze molto interessanti io purtroppo non ho trovato quello che speravo e ho dovuto comunicarvelo perché comunque è per una questione di onestà intellettuale non posso fare altro perché altrimenti io non sarei io come sempre fatemi sapere nei commenti se li conoscevate se la pensate come me o ne siete innamorati o ecce ecce so che ci sono molti estimatori di questi profumi io come sempre vi ringrazio ci vediamo al prossimo video profumatissimo ciao